salve a tutti ci troviamo nella sala meta dove stiamo provando il trovatore a breve andrà in scena diretti dal maestro zubi meta il reparto è fantastico è un cast splendido la regia molto interessante di cesare lievi ci porterà in scena e permetterà una lettura molto interessante dell'opera sono molto contento di essere tornato a firenze a cantare anche questa volta interpretando il cattivo non mi resta che invitarvi ad assistere a questo spettacolo che sarà sicuramente interessante e splendido ciao